Signor Darek Buongiorno Buongiorno Come va? Così così Dica qualcosa Qualcosa polacco oppure qualcosa italiano? Come vuole Allora polacco Quindi lei è polacco? Certo Non si vede? Si vede e si sente Da che cosa si sente? Accento Che accento è? Sempre sbagliato Accento polonico Polacchico Accento polacco Allora saliamo 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 Stai attendo Cosa vuole mangiare per oggi? Tutto Tutto perché ho fame da moglie Come vede Si toglie il giubbotto Si spoglia nudo prima di mangiare Sto lavorando a Giostro Ah facciamo pure pubblicità Ora ci facciamo pagare No 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 facciamo pubblicità Ci facciamo pure pagare dal negozio Pagano poco Adesso Adesso appoggio la telecamera qui Vediamo Mi devo fare la barra Sono senza barra Questo è uno stronzo Non so Che cosa non posso fare? Però da lì poi non posso cucinare Un'inquadratura è in quanto Allora fai cucinare Io ti aspetto Ora spegni Ciao Spegniamo intanto Ci vediamo Ci vediamo dopo Dopo la velocità Come si spegne? In questa casa non siamo molto attrezzati Ah c'è pure della carne Cosa preferisci? Carne di questo o salsiccia? Forse Forse carne La carne? La carne Come si fa questo? Ma non lo so Questa è quella per farla bollita Però ci fanno un sacco Va bene forse salsiccia Amore salsiccia Perché si prepara E' più buono C'è più veloce Questa qua Ci vuole Penso di ripienire Questa è la salsiccia Questa è la salsiccia Quanta ne facciamo per due persone? Un chilometro di salsiccia Questo è per una persona No per due Forse basta Basta così Dipende da te Se vuoi mangiare di più Io già ho mangiato L'hai già mangiato? Io me la ho mangiando cruda Riprendimi mentre me ne mangio un pezzino Come una cucchina è questa Così Come? Le mangia così Salsiccia cruda E poi sta male Tutta la giornata Mmm buona Buona Ci voleva meno tempo Per la pasta Non so Iniziamo in primo Queste cose Dopodiché cosa facciamo? Aspettiamo Scusa Così la vedi in tempo reale, l'ho appena fatta, in diretta, ora te l'ho fatta in diretta, come mi fate sempre la diretta, mi fate sempre la diretta, mi fate sempre la diretta. Appena diciamo che la ragazza non è scritto, ma pure facendo il corso non è che si scrive, è sempre strano, insomma. Grazie per la visione. Allora, mangiamo l'acqua. La prossima volta compro qualcosa di pretto, non cucino più. E' proprio per la luce, così viene meglio la luce. E' veramente buono. Cosa sta mangiando? Posso scrivere pistanzione. Pistanzia. 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 Ogni tanto si ferma. Va bene. Possiamo...